Entro 60 giorni le associazioni sportive dilettantistiche che operano all'interno della polisportiva di Fregene dovranno lasciare l'area ai proprietari dei terreni che ne hanno chiesto la restituzione. In ottemperanza ai vigenti strumenti urbanistici del comune di Fiumicino, l'area è destinata a servizi pubblici e ne è prevista l'accessione gratuita al comune. Noi chiediamo un polo sportivo di Fregene. Il motivo per cui lo chiediamo è il fatto che questa struttura costruita nel tempo oggi ha lo sfratto dalla proprietà. A noi interessa che questa struttura vada avanti, il che significa che va strutturata in maniera che sia polivalente, funzionale a quello che è il 2021. Strutture dell'acqua, con la piscina, tutto ciò che sta intorno alla polifunzionalità degli sport, quindi aumento delle attività sportive e incremento della popolazione che abbia un servizio. In questo momento vi state trovando in difficoltà? Sì, ci stiamo trovando in difficoltà perché dobbiamo dare delle risposte ai genitori per il fatto del settore giovanile, prima squadra e juniores. Noi ce l'andiamo, ma ci devono dare un posto da qualche parte dove poter far calcio. Noi già siamo stati al comune a riferire queste nostre mancanze, ma loro ci hanno detto andate a Maccarese, andate da altre parti dove non si può far calcio. Noi abbiamo i genitori che stanno qui a Fregene, vogliono stare qui a Fregene, abbiamo 140 ragazzi e gli dobbiamo dare una risposta immediata. Noi chiediamo di dare continuità a quello che abbiamo fatto in questi due anni, da quando siamo entrati qui, e cioè cercare di continuare a lavorare con il Padel, dove abbiamo circa 250 iscritti di tutte le età. Io faccio parte della vecchia guardia che ha costituito questo impianto, purtroppo dei personaggi che non sono più tra noi, li voglio onorare per cosa hanno fatto sia nella generosità e nel cuore e quello che hanno dato fisicamente. Quindi questo impianto è della sportiva Fregene, dobbiamo mantenerlo noi. C'è una convenzione che chiede alle attività sportive di ridare al comune queste aree, che venga data una possibilità, quindi nell'emore dell'utilizzo di quest'area da parte dell'amministrazione, di utilizzarla ancora, proprio per permettere l'aggregazione di ragazzi, di giovani sul territorio e delle attività sportive. Per questo io presenterò in aula un documento che chiederà all'amministrazione di dare delle proroghe fino a quando l'area non sarà interesse di un'attività urbanistica. In caso di chiusura della polisportiva, i cittadini e i comitati chiedono un polo sportivo alternativo. Da Fregene per Canale 10 Paolo Leone